Anche dalla natura, la natura offre tantissimi suoni e poi quello che è molto importante nella musica e dall'impressionismo, ma non solo nella musica, anche nella pittura di cui parlavo proprio all'inizio, sono i colori e la vediamo nella pittura per esempio di Monet, un quadro di Monet. Ecco qua, vedete prima questa nebbia, non c'è un'immagine proprio nitida, chiaro, ma poi la luce, l'importante è che rimane la luce nel quadro e l'ombra, anche l'ombra ha colore, non c'è bianco e nero, c'è sempre qualche sfumatura in più e questa ricerca del colore è estremamente importante, non solo nella pittura ma anche nella musica. Infatti i colori di vari strumenti, strumenti anche nuove, delle terre lontane, colori, sfumatura, anche in un timbro solo, in uno strumento solo, la ricerca di questa sfumatura è molto delicata e importante nella musica dell'impressionismo, nella musica di Debussy. Poi anche, non solo i colori, anche i colori, noi parliamo armonici, cioè le combinazioni di varie note suonate insieme, le cosiddette appunto armonie. Poi Debussy, e questo è curioso, usa il silenzio nella musica, il silenzio non una pausa tecnica, il silenzio che non si sente la musica, no, Debussy dice il silenzio fa parte della musica, il silenzio è suono, anzi il silenzio è diventato musica. E questo è un concetto abbastanza nuovo e viene inserito, questo aspetto del silenzio, nella sua musica. Appunto, quello che è importante per l'impressionista è dare sensazioni, emozioni, illusioni, sollecitare tutte queste emozioni, lasciando un oggetto deve suscitare questa emozione nel soggetto. L'oggetto suscita emozione nel soggetto. Poi Debussy ha scritto per flauto solo, un brano importante, anzi Debussy ha scritto molto per flauto, perché visto che lui ama molti suoni della natura, il flauto attraverso forse è lo strumento, oltre alla voce umana, lo strumento più vicino alla natura, perché con l'aria, con il soffio viene inclinato nel corpo, nel tubo dello strumento e nasce il suono. E infatti questo area, questo soffio nel corpo del flauto si riferisce proprio alla natura, il soffio del vento, il soffio dell'aria, il soffio della vita. E in questo brano, che si chiama Sirinx, Debussy trasmette quasi la disperazione del dio Panne, del dio dei pastori, che si innamora della ninfa Sirinx, la bella ninfa. La ninfa si spaventa e è scappata via in un bosco di canne. Debussy raccoglie alcune canne, taglia in varie lunghezze le leghe, così nasce lo strumento del flauto di panne. Però tutta questa disperazione del dio Panne, la ricerca della ninfa, Debussy ha trasmesso in musica. E questo è un brano estremamente interessante, soprattutto per i flautisti. Infatti adesso io volevo salutarvi, non in un modo tradizionale, vi dico soltanto che dopo la trasmissione di 031, con il mio messaggio, è finita. E andrà in onda la trasmissione 30 denari. Però io non volevo salutarvi in un modo tradizionale, però suonando proprio l'introduzione, un pezzo brevissimo, di questa composizione di Claude Debussy, composto nel 1913, cioè sei anni prima della sua morte, per flauto solo, che si chiama Sirinx. E andrà in onda la sua morte. E andrà in onda la sua morte. In collaborazione con... Costruire una casa non è un gioco da ragazzi. Scopri perché. Guffanti costruzioni. Casino di Campione d'Italia. Emozioni per gioco.